e beh sì amici avete riconosciuto il ritmo e beh ovviamente non soltanto il ritmo e lei Cecilia Ghil che tra l'altro ospite di Radio Gile Express e Radio Vittoria Express in questa puntata super meravigliosa che insomma ci porta ritmo Cecilia ben trovata ciao buongiorno a tutti gli amici Radio Gile Express ciao Mali che piacere ma sei bellissima devo dire sei veramente bellissima poi radiosa come sempre è vero che sei la regina del sorriso e della gioia così come spesso insomma hanno sottolineato non noi ma i nostri media che parlano spesso di te ma poi tu sei sempre ospite in tante programmazioni televisive eccetera insomma non hai smesso di eh tenerci compagnia e di farci sentire insomma tutto il tuo calore e tutta la voglia di vivere sei stato con noi anche tra l'altro nei momenti più difficili questo mi sento di di sottolinearlo Cecilia quando è scattato il lockdown e tu sei stata vicino a noi vicino agli amici di Radio Gile Express grazie grazie di cuore e oggi cara Cecci ritorni con un nuovo insomma inedito siamo curiosissimi di ascoltarlo insieme grazie sì ritmo dell'amore ritmo dell'amore un ballo semplicissimo non va una canzone piena di 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 entusiasmo di allegria di di divertimento e è accompagnato di un di un balletto molto semplice e il video è fatto in 3d quindi vi consiglio di andare a guardarlo che tra l'altro devi sapere Cecilia noi chiaramente gireremo e proveremo a riproporre in questi giorni perché vogliamo proprio imparare questa coreografia che è bellissima semplice e ovviamente facile da da eseguire ma la cosa bellissima che ci arriva davvero lo sottolineo ancora una volta è tutta questa energia di cui noi abbiamo bisogno dopo il periodo che abbiamo ovviamente trascorso in insieme e devo dire eh di 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 silenzio c'è questa voglia di riconquistare la la nostra vita tutta la nostra Gio io nel frattempo sto pronto a collegarmi dal mio cellulare sulla pagina Facebook di Radio Gela Express ho qualche piccolo problema l'importante insomma che voi riuscite a vederla sono contenta poi dopo sì mi danno c'è il nodi sì dalla regia sono io che sono un pochino lenta allora Ceci una cosa che ho visto è che ultimamente davvero eh stai girando tante ho visto anche una bellissima caduta ti ho visto detto fatto insomma tutti ti vogliono perché porti veramente il sole Sì mi ritengo una donna fortunata ehm poi il mio obiettivo è sempre quello di regalare un sorriso di portare gioia nel vostro cuore ma infatti io spero di di riuscire Ci riesci ci riesci noi stiamo a dire cioè proprio ti abbiamo raggiunto proprio dentro casa Ceci ci devo dire eh sì stiamo nel salone di casa mia Adesso non si può andare dove vai E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero che ci sono tutti questi social così possiamo eh interagire e vedersi perché se no Ma grazie di averci davvero ospitato di averci dato questa opportunità di poter entrare dentro casa tua insomma non è una cosa che succede tutti i giorni Allora io il frattempo eh chiedo al mio Vincenzo Cusumano che sta gestendo questa diretta io non riesco ad entrare direttamente dal mio cellulare eh sulla nostra pagina quindi fammi cenno dimmi se è tutto a posto così posso anche provare a a a mandare il brano e che eh tra pochissimo ascolteremo Prima di farlo caro ceci io non so dove guardare perché abbiamo diversi punti di vista quindi mi mi perdo devo dire eh però te riesco a vederti perfettamente quindi bellissimo è questo colore ti dona anche se è rosso devo dire che proprio esplode così come nella grafica quindi quindi facciamo i complimenti intanto a chi è realizzato la tua copertina che è bellissima devo dire Ah grazie mio amico di Salsa It Francesco complimenti bravissimo Francesco Rocco e lui me l'ha fatto in qualità di amicizia veramente lui è molto appassionato mi ha fatto questa copertina poi mi ha fatto che la copertina dell'importanza è finire molto bravo grazie Sì ha azzeccato anche per il brano che adesso andremo ad ascoltare allora ceci a te il microfono per così salutiamo anche gli amici che in questo momento stanno aspettando di ascoltare questo inedito che faremo girare a tempesta ragazzi comunque però prima di chiudere volevo dirti che tu sei la mestra del sorriso anche la mia personale ti seguo tantissimo e ti ringrazio davvero per tutta questa bella energia che hai portato in Italia noi abbiamo bisogno di questo proprio di energia positiva di persone sorridenti come te e che sentono il il ritmo Bini a te il microfono amici vi presento il mio nuovo singolo ritmo dell'amore io ti saluto un ballettino semplice però ballate come volete l'importante che vi lasciate andare grazie a Cecilia Gayle e ritmo dell'amore a prestissimo un abbraccio forte a tutti gli amici di Radio Spreggela grazie grazie a tutti ciao 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 a tutti ciao vai czeci ciao 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 Pondre tu sensualità Repitele otra vez Para adelante, para atrás Así se baile il ritmo del amor La 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 Ay, así con él La 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 Ay, me siento bien La 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 Y ahora ven, vengate un poco para acá Es un pasito muy sencillo, ya verás Para abajito, para adelante, para atrás Y dale con tu swing que esto va a comenzar Y ahora un, dos, tres Para adelante, para atrás Moviendo la cintura ponle tu sensualidad Repitele otra vez Para adelante, para atrás Así se baile il ritmo del amor Me gusta tu sabor Me gusta tu hermosura Y con tu calor Tremenda locura Ay, sabrosura Dame cintura Y ahora un, dos, tres Para adelante, para atrás Moviendo la cintura Ponle tu sensualidad Repitele otra vez Para adelante, para atrás Así se baile il ritmo del amor La 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 Ay, así con él La 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 Ay, me siento bien La 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 Do la 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 Calabura! Calabura! Che energia! Grazie Cici! A presto! Un bacio grande! Ciao! Mamma mia ragazzi! Straordinaria! Cici è stata con noi adesso, continuiamo! Viva la musica! Grazie per lalightly, grazie a lei! Ay, anche con il Ai, mi sento bien La, 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 la La, 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 la